Vediamo subito come accedere al TripDatabase Per accedere al TripDatabase entriamo nel sito della biblioteca www.biblio.unimib.it Nella sezione accesso rapido troviamo Metabib, biblioteca digitale il portale attraverso il quale entriamo nelle risorse elettroniche della biblioteca Entrati in Metabib, il modo più veloce per accedere al TripDatabase è selezionare Trova banche dati e digitare il nome della banca dati Trip Lo riselezioniamo Si presenta la ricerca base, che ha una maschera stile Google A destra abbiamo invece le altre tre ricerche possibili l'Advanced Search, la Pico Search e la Rapid Review che dopo vedremo nel dettaglio Esce automaticamente una finestra per la registrazione nel Trip Non è obbligatoria, serve per accedere alle funzioni personalizzate Se non volete farlo, basta cancellare con la X e proseguire nella ricerca Non è obbligatoria, serve per accedere alle funzioni personalizzate Per accedere alle funzioni personalizzate